Beh facciamo stare. Allora Vediamo se li troviamo No non fa così però vabbè E intanto prendiamoci il tier 2 Tu 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 vieni qua Perfetto Gioco col tuo cibo 1 Dove è finito? Porca troia Sono Kugumaya Sono veloce come una sagra di gioco col tuo cibo Vabbè giochiamo con 2 intanto Muore hai preparato da mangiare? Gentile grazie Ok Iniziamo a porcare anche machine learning Ciao E addio Ehi 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 Cosa pensi di fare? Vabbè spacchiamo il pallet Ehi 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 Cosa pensi di fare? Oh sto passacrando Ciao Salentina Buonasera No cazzo non sono andato Mettiamo che calcio il gen Per oppressione E machine learning Trail of Torment anche Perché non avevo più Trail of Torment Tra l'altro Non l'hanno ripreso il gen O forse l'avevano ripreso Ma è illegale Per il momento non sto facendo praticamente niente Di diverso dal normale Ma come sa dire Quando esce Il 25 Zio Sì comunque il fatto che abbiamo tolto Quel look lì È veramente Veramente triste Quell'uncino lì Non so perché l'abbiamo tolto Di RPD Però vabbè Ma io si mette ansia Perché non sai se ha la lapide o no Sì ma una volta che capisci Che non ha la lapide Beh in realtà lo capisci Basta che vedi quanto ci mette a caricare Il tier 3 No Mino adesso no Però c'è anche il cibo Mi riempi di piedi il cibo No grazie Vado a usare oppressione di nuovo Andiamo da questi due Anche perché voglio gioco col tuo cibo Ciao Ciao Vabbè pendolede Oh mi ci sto trovando benissimo Con l'oppressione Comunque Veramente un bordello bene Anche con Trail of Torment Col cooldown che hanno Adesso Mica fucking male Raga Mica fucking male Sì i primi 5 killer Ci saranno solamente Ah non ho più Trail of Torment attivo Ok Però tanto ce lo possiamo Già riattivare Con l'oppressione pure Ok Voglio fargli droppare Sto pallet Tanto voglio la terza stack Di giocato col tuo cibo Ok E ora siamo veramente Fast as fuck Sogniamo ancora 5 gen Ma penso anche grazie a oppressione Perché stiamo davvero Creando una pressione assurda E gli stiamo continuando A dar fastidio La cosa buona di oppressione È che puoi calciare Anche altri gen E ti dà comunque Oppressione Senza bloccarlo Ciao Stinger Buonasera Non voglio neanche Camperarla Dai Fate il save Lato sono ancora 5 gen E ancora non ho broccato Machine learning Tra l'altro Con machine learning Veramente volo Già adesso Con 3 stack Sono velocissimo Un 10% in più Arriva a 25% bonus Ed è veramente Uno sfacelo Va che roba Dove pensi di andare Adam Oh no Mi droppa il pallet Belle dart Peccato Mi ha fatto sprecare Così una stack Hanno finito un gen Non so quale Però Va bene Quando mi devi Stallare 40 giga Rieccomi Ciao Pino Bentornato Cosa fa Oppressione Quando calci un gen Altri 3 generatori Iniziano a regredire Mi dai il chase Mi perdoni Vabbè Questo non si è neanche Reso conto Che stavo camminando così Io però Veramente strong Così Vorrei che facesse Il save Quanto è veloce Sì ma hai presente Quanto tempo Devi perdere Avrà 10 Compressione scarica Eh ma scoppia un gen Ma poi non lo puoi calciare Il gen Che scoppia Quindi non ha molto senso Sì però volevo proccare Anche machine learning Non aveva ADS Ok Vabbè GG Peccato Però Oppressione Veramente un buon perk Attualmente Veramente tanto Un buon perk Cosa dove cazzo è andato What Just panzaz Grazie al follow E benvenuto Serpentelli Spero che ti troverai bene Qui con noi Oh salve Non so quando ci sei arrivato Qua ma Dire comunque che Myers è broken Mi sembra un po' eccessivo Però questa build Mi sembra forte Questo è poco ma sicuro In questa mappa Perché ricordiamo che È una mappa piccola Perché se fossi stata Una mappa grande Già Perdeva di value È una mappa del genere Però non troppo Buon appetito Buon appetito Io mangio intanto Anche dire Che gioca col tuo cibo È broken Non è vero È forte Però devi considerare Che devi perdere tempo Non è vero Non è vero No non è vero No non è vero Non è vero No non è vero Che devi Bohntare